Saranno ascoltati in Danimarca presso il Tribunale di competenza i due testi scandinavi che nella notte del 3 agosto 2011 alloggiavano nella camera accanto alla 609 dell'hotel a Sant'Anna di Palma di Mallorca, dalla quale perse la vita precipitando da una balcone Martina Rossi, la giovane studentessa Ligure. A seguito di quella tragedia sono finiti sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca ed Alessandro, accusati di morte in conseguenza ad un altro reato, la tentata violenza sessuale. Per l'accusa la ragazza sarebbe infatti volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Quindi è questione di sapere la tempistica e la modalità, ma non più se saranno sentiti, certamente saranno sentiti. I danesi, padre e figlia, ritenuti testi chiave della procura, molto probabilmente saranno ascoltati grazie ad una rogatoria tradizionale che quindi prevede domande risposte, trascritte, tradotte e poi inviate al Tribunale e non più tramite una videoconferenza. Sostanzialmente noi abbiamo interesse a che ripetano quello che già hanno detto in sede di indagini preliminari e quindi appunto che vi è stato un urlo straziante seguito, immediatamente seguito al precipitarsi correndo per le scale da parte di una persona. Quell'urlo secondo l'accusa sarebbe stato di Martina, scendere di corsa per le scale sarebbe stato invece Alessandro, una ricostruzione che smonterebbe la versione data sino ad oggi da due ragazzi che hanno sempre sostenuto che nel momento della tragedia in camera fosse presente solo Luca. Un altro viaggio però, ecco, è un altro passaggio importante. I legali degli imputati sono già pronti a partire per la Danimarca. La credibilità di un test, le sfumature, il non detto, molto si capisce anche essendo presenti e assumendo la testimonianza comunque direttamente. Il prossimo passaggio in aula è stato fissato per il 17 settembre.